Torna la grande colletta del Banco Alimentare, scende in piazza il popolo del bene, non per protestare ma per riscoprire la dimensione del dono. Ci sarà chi dona cibo per i proveri e chi dona tempo ed energie per raccoglierlo. Nella giornata nazionale della colletta alimentare saranno coinvolti 5 milioni e mezzo di consumatori donatori e 145 mila volontari. All'uscita dei supermercati per raccogliere il cibo offerto da chi va a fare la spesa ci saranno studenti e pensionati, operai e professionisti. A Napoli presentazione dell'iniziativa presso l'Istituto Sacro Cuore in Corso Europa. A parlarci dell'iniziativa Antonio Romano, presidente della Fondazione Romano Guardini. I ragazzi della scuola aiutano il progetto ormai da anni perché noi siamo sostenitori e promotori della colletta alimentare. Anche quest'anno i ragazzi parteciperanno alla raccolta davanti a circa 10 supermercati totalmente gestiti dai giovani e non solo. Siccome il Sacro Cuore è il punto di raccolta generale di tutti i supermercati di Napoli staranno fino a qui a tardi a caricare i camion e i tire per portare i prodotti raccolti dalla città di Napoli che è sempre generosa al Banco Alimentare Centrale. A sostenere il Banco Alimentare anche la regione Campania. A parlare dell'importanza del dono agli studenti, l'assessore alle politiche sociali, Lucia Fortini. Trasmettere ai giovani questi valori è una cosa fondamentale, importantissima. Ho visto dei ragazzi contenti di donare, di donare il loro tempo oltre che agli alimenti e penso che questo sia importante per la costruzione davvero di cittadinanza attiva.